Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Futonelagere 2018, bentornati a questa terza stagione con di Emington Wonders. Domenica ci sarà tra due settimane la prima partita del 2020. 2020, siamo già andati abbastanza avanti, sarà una settimana questa fondamentale per sapere se riusciremo nuovamente a raggiungere i playoff o se come temevo inizio campionato quello dell'anno scorso fosse stato un miracolo, difficilmente da ripetere. Uno dei miracoli è che incredibilmente la squadra per ora c'è ancora più o meno tutta, adesso abbiamo avuto un po' di infortuni, un po' di infortuni che ci hanno portato a scoprire Leo van de Neuven, incredibilmente sta facendo miracoli, sta facendo semplicemente miracoli e che ci ha portati a cambiare il modulo per un 4-2-3-1 che finora pare stia giocando molto bene, girando molto bene. Ah, cosa vuole Moloni? Ti farò giocare nelle prossime partite. Non mi farò dire come allenare la mia squadra. Vabbè, pazienza, sì. Moloni ce lo siamo un po' giocato, peccato perché era la nostra prima riserva. Ma tant'è, ma tant'è, ma tant'è. Faremo giocare un po' di più Strogus, che dobbiamo fare. Dicevo, il 4-2-3-1 che sta girando molto bene, grazie anche alle prestazioni di Veroven, che non è in grado di tirare, di prendere la porta neanche se da sé, di fare un gol neanche sulla linea di porta, però, 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 francamente, per il resto ci va assolutamente benissimo. Allora, tra l'altro, beh, lo vedremo poi mercoledì. Oggi è lunedì, andiamo a vedere che partite ci aspettano, il nuovo calendario ci aspetta No, questa è ben già giocata, ne ha preso un colpo. Ci aspetta, un inizio d'inferno, perché avremo nell'ordine Canterbury, Auckland City, Team Wellington e Mr. Suburbs, e poi partite che dovremmo vincere, che sono queste tre, White Akir, Oxbay e Southern. L'inizio sarà d'inferno. Se da queste quattro partite riusciremo a essere ancora agganciati alla zona playoff, credo che sarà un miracolo, e speriamo che questo miracolo ci serva a qualcosa, insomma. Io, come vi ho detto, più che altro punto a giocare la Champions Asiatica, quindi insomma, la Champions Oceanica, quella l'abbiamo giocata già una volta con il Titicaveca, non abbiamo avuto molta fortuna, ma ci sta. Potrebbe perdere Pratt? Possiamo offriti un contratto, Pratt? bonus e clausole, 925, proponi termini, ti aumento un po' il premio presenza, il bonus presenza in panchina, il bonus fedeltà, 1000€. Qual è il problema? Ah ok, proponi termini, che palle è? Ti ho aumentato tutto, io. No, facciamo prima squadra. Ti aumento il bonus fedeltà, cosa devo fare? Ah, tutte le alternative, vabbè. Sì. Oh, Xavier Pratt. No, no, dobbiamo prenderlo, Xavier, tenerlo Pratt, insomma, più che altro per tenercelo buono. Poi l'anno prossimo, intanto questo è l'ultimo anno che farò gli Hamilton Wonders, quindi francamente per quanto sarei contento di lasciarli in una situazione decente, non mi straccerei le essi se qualcuno non... intanto molti di quei giocatori non si riusciranno a tenere. Anche se magari succederà esattamente come con Just, che teoricamente non ha più un contratto, gli viene rinnovato di mese in mese il contratto, finché rimane con noi. Finché nessuno lo vuole, con tutti i gol che sta facendo, Dio solo lo sa perché nessuno lo voglia prendere. Cioè, ehm... Contratti scadenza all'Hemington Wonders. Minchia, tutta gente da attivare. Beh, attiva meno l'estensione per Leo van der Reven. Saris, Marsters... Ma, ehm... Invece mi chiedevo... Competizioni, volevo vedere un attimino... Eria Just è con 7 gol e il capo cannonieri in questa competizione e nessuno ce lo viene a prendere, eh. Dio solo sa perché. Sarebbe delle squadre che ne avrebbero preso un assoluto bisogno, ma non si impegnano per venircelo a prendere. Moloni sta fuori per 9 giorni, ma tanto, insomma, per 9 giorni non giocheremo, quindi non ce ne frega un cavolo. Ovviamente, Lionel Messi... Paolo Di Bala ha vinto il pallone d'oro? Davvero? Minchia! Quindi dopo Messi, Messi... Ronaldo, Messi, Ronaldo, Ronaldo quindi è arrivato a 3... 4, nella realtà è arrivato a 5 perché non gli è andato quello del 2017. Messi a quota 1, 2, 3... 7 palloni d'oro. L'ha vinto Paolo Di Bala? È così forte Di Bala? Beh, sì, è forte. È indubbiamente forte. Vabbè. Buon per la Juventus che ce l'ha. Magari un giorno lo alleneremo. Magari non alla Juventus, magari qualche grosso squadrone, chissà. Chissà se riusciremo ad arrivare così in alto. Allora... Nazir Mohamad, facciamogli complimenti, sì. Alla prossima. Ma perché è scontento? Speriamo non lo sia anche Margez. Volevo fargli complimenti. Leo Van de Neuven, minchia, Van de Neuven, stai giocando bene. Bravo, bravo, bravo. Pagamento del contratto attivato. Certo, l'abbiamo rinnovato per un anno. Uno che sta giocando in questo modo non dobbiamo rinnovarglielo per un anno, santo cielo. Ma... non lo so. Vediamo un po' come ci sbrighiamo. Allora, dati importanti di gennaio, va bene, lo sappiamo. Uno felice, 31 scontenti. Justin, mese di dicembre, insomma, sei gol in quattro presenze. Allenatore del mese, finalmente, insomma. Una sconfitta, tre vittorie. Nella squadra del mese c'è Justin, c'è Johnson e c'è Margez, insomma, va bene così. E beh, l'abbiamo un pochettino raddrizzata questa partita, questo campionato. Certo, siamo ancora ben lontani da riuscire a fare qualcosa, però, insomma. Ma chi se ne frega di Smith? Oh, Adam Smith. Ma di Adam non ce ne frega un cazzo di sto Adam Smith, quindi... E che premio ha vinto, scusami? Giocatore dell'anno... Quindi non ha vinto il pallone d'oro, ma ha vinto il premio FIFA, credo. Vabbè. Va bene così. Milan vince in Coppa Italia a quarto di finale. Ah, io non vince più la Coppa Italia da un po', credo, tra l'altro, eh. Tutti i campionati che stanno vincendo credo non se ne preoccupino più di tanto, però. Oakland City, Waitakir. Possiamo sperare in un miracolo del Waitakir, però la vedo un pochettino grigia. Oh, Margez è diventato lì. Oh, Prat ha firmato. Bene, bene, bene. E no, il Oakland City ne ha fatti sei al Waitakir. Che non ce lo si poteva aspettare niente di diverso, eh. Adesso vediamo cosa farà se riuscirà a battere. Dovrebbe battere un'altra squadra che mi interessa che battesse, quella che sta dietro di noi, Southern, in modo che magari battendola, noi rimaniamo a due punti dalla zona promozione. Atkin, ma che cavolo è sto giocatore? Ma tientelo, scarta. Edelmame. Bah, insomma, difensore destro. Stanno giocando tutti i giocatori del Marisfire. Arnoldo Patiti, finalizzazione... Beh, non è male questo, in realtà. È 17 anni, valutato a 19 milioni e 7. Indennizio 54 mila... Eh, se, vabbè. Chi ce l'ha sti soldi? Chi ce l'ha sti soldi? Tane? Vabbè. Lasciamolo dove sta. Continua. Sì, O'Brien, forse... Tobin è un po' inutile, però dai, teniamocelo per ora, teniamocelo per ora. Speriamo solo che non rompano il cazzo. L'Ocrane City vorrebbe comprare Ken Schmidt, l'importante è che non venga a comprare nessuno da noi, anche perché se viene con... abbiamo tipo Just, io ho paura per Just, ho paura per Just che ci saluti. Non ce ne frega. Né Marsters, né Probert ci interessano. Abbiamo già i giocatori iscritti. Vabbè, ragazzi. Andrea Conti dal Milan al Celtic. Vabbè, ragazzi, sapete che vi dico? Andiamo avanti fino alla partita, va? Sono ripartito perché arrivano offerte per i nostri giocatori, questo è orribile. Luke Johnson, ovviamente, rifiuta tutte le offerte. Sono arrivate offerte per Marggets, anche se per ora solo contatti, non ci hanno fatto un'offerta vera, e Moloni vuole andarsene. Quindi stiamo smontando la squadra. Moloni, pazienza, ma pazienza no, perché è la nostra prima riserva davanti, dovesse rompersi qualcuno, che cacchio faccio giocare? Però, 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 però. Tra l'altro, la... oh, Southern, vediamo un po' cosa riesce a fare. Uno a uno. Eh, vabbè, pazienza. Ma va bene, l'Occlan City si è fermato. Alla fine noi abbiamo sei punti sotto l'Occlan City, ma due sotto il Canterbury. Southern ci ha sorpassato e siamo tornati ottavi. Ma tanto la partita importante la facciamo col Canterbury, eh. Quindi non ci si scappa da lì. Non ci si scappa da lì. Anzi, se l'Occlan City non arrivasse primo, a noi andrebbe anche bene, perché magari se dovessimo, per sbaglio, riuscire a centrare il quarto posto, non ce lo troveremo subito in semifinale. Con l'Occlan City, vabbè. Io dico, poi in realtà, 51 milioni? Sti cavoli, quanto cacchio? Vabbè. Di fronte alla dura sfida, quanto ci danno sconfitti? Bene, anche di tanto. 3 a 2 per l'ora. Credo che sto atteggiamento sia non professionale. Mi evita profondamente, ma tutto questo sarà un vantaggio. Ammiro molto il modo in cui li fa giocare la tua squadra. So che la mia gioca meglio, però, infatti. Non tro fiducia fin tanto che ci atteniamo al nostro modulo di gioco. Penso che andrebbero anche peggio senza di lui. Ma in effetti il Canterbury, sì, vabbè, sta dove deve stare, insomma. Vorrei rafforzare... Non voglio parlare della politica trasferimenti. Sono felice che è stata riconosciuta la nostra situazione. Abbiamo semplicemente lavorato più di altri. Xavier era un giocatore, penso di poter parlare... Perché siamo riusciti a confermare Pratt, tra l'altro. E questo ovviamente non ve l'avevo detto. Abbiamo fatto la... Gli avevamo proposto e... Lui ha accettato di farsi confermare da noi, insomma. Oddio, si è rotto Pjanic. Beh, hanno mesuto Zil. Un giocatorino proprio da niente, insomma. Per sette giorni, due settimane. Vabbè. Gersen. Non cambierò il mio approccio. Oakland City-Tasman. Questa è una partita importante. Ha vinto l'Oklan City, quindi il Tasman rimane a dodici punti. E dovessimo vincere, potrebbe essere una delle squadre che andremo a sorpassare. Sicuramente due vincendo le sorpasseremo. Quindi mal che vada saremo sesti. Almeno. Almeno. Che potrebbe essere la miglior posizione che abbiamo avuto in questo campionato. Forse tra le la prima partita. Allora. L'infortuno di O'Brien, fortunatamente, non è l'O'Brien. È l'O'Brien della primavera. Ogni volta che vedo l'infortuno di O'Brien mi prende un colpo secco. I due oloni. Disponibile per la B. Ma no, lasciamo stare, va. Tortiamocelo dietro. Ok. Sarà una partita, ripeto, assolutamente non facile. Ma ce la possiamo giocare. Questa è la formazione titolare. Sono indeciso se provare a ributtare dentro Show. Però non è ancora tanto ritmo partita. Magari giocherà il secondo tempo. Sì. Quattro sostituti che non giocheranno. Spogliatoio. Potremmo arrivare in zona playoff e fatemi vedere cosa sapete fare. Assolutamente non è pronto per questa partita. La mia formazione si è praticamente scelta da sola. Mi spiace lasciar fuori Debena, ma stiamo giocando veramente bene adesso. O'Brien. Johnson. Van der Neuwen. Pratt. Gondwe. Van der Neuwen. E che perde palla malamente, però. Atkinson. Nakamura. Nakamura largo. Potrebbe crossare dentro. No. Fuori. Bene così. Un po' un minuto. Partiamo abbastanza bene. Allora hanno due riserve infortunate, ma va bene così. Facciano un po' quello che vogliono. Evidentemente non hanno giocatore di ricambio. Notare uno stile di passaggi più corto. Pratt. Cross dentro. Mohamed di testa. Fuori. I passaggi corti non li sappiamo fare. Ci siamo allenati per tutta l'estate nei passaggi corti, ma non li sappiamo fare. Quindi non li possiamo mettere. Oh. Hanno Nakamura già mezzo infortunato. Perfetto. Pratt. Pratt. Non perdere sto pallone così. Pratt però. Atkinson. Dentro per l'Uterbus. Lo chiudiamo bene. Non ha potuto fare molto. Ora stiamo tirando principalmente noi. Questo va bene. Non lo sono venuti solo avanti quella volta. Praticamente. Proviamo a spingere un po'. Vedere cosa riusciamo a fare. Per un'offensiva. 28esimo. 29esimo. Partita abbastanza tranquillo. Brian. Cross dentro. Van der Raven. Che non è capace a tirare. Non dovrei mai farlo tirare. Non c'è la possibilità di dire a un giocatore non tirare mai nella tua vita. Ma neanche per sbaglio. Ma neanche se sei solo davanti alla porta piuttosto passala. Liddycott. Johnson. Perché ha due di finalizzazione. Pratt. Lungo per Just. Just si gira. Ma do che stop che ha fatto. Cato per il tiro fuori. Sarebbe stato un gol onzo. Veramente un bel gol. Veramente un gran bel gol. Schwarz. Fabian. Pallone lungo. Johnson. Una volta si diceva euro gol. Cosa si dice ancora? Mohamed. Johnson. Lunghissimissimo ancora per Just. Just. Gol. E questa volta la mette dentro. Questa volta non sbaglia. Just è l'uomo più atteso. Proprio lui. Come direbbe. Come diceva qua sotto. Come direbbe il buon Sandro Piccinini. Mohamed ha fatto un lancio. No. Johnson ha fatto un lancio alla Bonucci. Porco cane che lancio lungo. Bravo Just. Rimaniamo inoffensiva per ora. Rimaniamo inoffensiva va. Oliver. Lunghissimo. Fabian. Pratt. Gondwe. Van der Neuwen. Just. Van der Neuwen. Gondwe. Largo per Margez. Cross dentro. Isa. Knight la blocca. Peccato. 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 Carità. Chiuderemo bene il giro. Dovremmo fare il 2-0. Io ho paura di cosa può succedere alla nostra difesa se veniamo attaccati in velocità. Abbiamo la difesa veramente un po' scarsetta. Wilson. Lunghissimo per Atkinson che è solissimo ovviamente. Ma Oliver la chiude. Questa volta Johnson non gli è corso dietro eh. Nakamura. Largo per Lask. Lask. Pingiate. tessere il lancio a lungo. Perfetto. I Phoenix riserva stamattina il team Wellington. O'Brien dentro per Muhammad di testa. Knight blocca. Davvero? Come cazzo è possibile? Vabbè. Quarantasettesimo. Ok. Spogliatoio. Palla alla squadra. So che potete fare anche meglio. Comincia a secondo tempo. Oh. Quarantacinquesimo. Schwarz. Falcian. Lancio lunghissimo. Pignaker la mette fuori. Beh però l'ha chiusa bene. L'ha messa fuori bene eh. Devo dire. Lidicot. Peccato che Tony mangiano loro in attacco. Atkinson. Van der Reven recupera palla. Muhammad. Lancio lungo. Non c'è però Juste che era troppo indietro. Fabian. Potrebbero ripartire loro se non gli rubiamo questo pallone. Lidicot. Nakamura che è stanchissimo ma continua a giocare. Pratt non riesce a rubare palla. Atkinson. Nakamura si è allargato. Nakamura potrebbe metterla dentro. Task. Lask deve solo metterla dentro. Eh porco cane. Ed è anche stanco. Eh scendiamo in ottava posizione. Vabbè. Pazienza. Andiamo avanti. La partita è ancora lunga da giocare. È ancora lunga da giocare. Nakamura si è ripreso. Sembrava mezzo infortunato. Prendiamo. Ho preso una botta. E dai però. Pratt. Dentro per Mahmad di testa. Ancora Knight. C'è Mahmad che tende ad andare di testa. Però non ha fatto grossi gol. Le ha fatto quello là che era in fuorigiochissimo. Il White ha chiesto abbattendo l'Hawks Bay. E questo ci va anche abbastanza bene. Dai ragazzi. Con sto Canterbury. Canterbury. Facciamo qualcosa di meglio. Non abbiamo Debenan. Ver no. 63esimo. 64esimo. 65esimo. Dai su. Tutto per tutto mi sembra eccessivo. Stiamo pareggiando. Non stiamo perdendo. Rimandiamo su offensiva. Loro continuano a far cambi. Tutti quelli che hanno praticamente perché i due sono infortunati. Fingiamo un po'. Tutto dentro Stroguz. Gondue. Cross dentro. Johnson non ci arriva. Van der Roeven. Ma perché tiri Van der Roeven? Un giorno mi farà un euro goal della Madonna. Io dirò. Hai fatto bene a tirare. 78esimo. Tantichè. Moloni un po' scontento. A posto di Aiza mi spiace quasi un po'. Stroguz non ha tanto ritmo partita. Proviamo a mettere Shaw al posto di Pignacar. Vediamo se di lì funziona un po' meglio. Nakamura. Cross dentro. Aiza libera. Morris. Morris. La ribatte. Potremmo ripartire. Tu chi sei che sei ripartito così lento? Uh che rischio. Pignacar la recupera. Aiza. Dentro Shaw. Che riprende il suo posto. Il posto di Nando Pignacar. Nakamura. Lask. Alta. 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 83esimo. Andiamo di spingere un po'. Mettiamo Stroguz al posto di Gondue. Per far una sostituzione. Sta giocando tutto per tutto per provare a portare a casa la vittoria. Dai. 83esimo. 90esimo. 90esimo. 4 minuti di recupero. Ce l'hanno proprio chiuso un po'. Knight. Mitchell. Mitchell. Aiza. Cazzo l'ha tenuta male dentro però. Baker. Rilanciano loro. Sì. Skins è da solo. Skins è da solo. Oliver. Bravissimo. Bravissimo. Proviamo a ripartire. Johnson. Ma questa è ancora loro come azione. Mitchell. Skins. Largo per Lask. che non mi interessa. Proviamo a vincerla. Fuori. Waitakir rimane in vantaggio. Ultima azione. Proviamo a giocarla. Proviamo a giocarla un'ultima azione. 93esimo e 30 secondi. Just. Aiza. O'Brien. Pratt. Largo per Stroguz. Potrebbe crossare dentro ma non. Crossa malissimo. Malissimo. Knight. Mi sa che riparte. Qua finirà la partita. Schwarz. O gli rubiamo sto pallone. O è finita. 1-1. Bah. Speravo francamente meglio. Speravo francamente meglio. Ma non è andata così male. Insomma. Siete stati sfortunati. Nient'altro. Vabbè. Era comunque una partita tosta. Contro uno scontro diretto. Un pareggio ci può anche stare. Rimaniamo due punti sotto la zona playoff. Che vuol dire che assolutamente alla fine del giorno di andata. Perché questa è la fine del giorno di andata. Non siamo così malmessi. Certo che adesso bisogna un pochettino cambiare ritmo. Cambiare ritmo. Abbiamo fatto giocare nuovi giocatori ovviamente. Meglio di niente. Volevamo vincere ma a me non ha permesso a Southern di avvicinarsi. Sprat splendido. E per il resto. Direi che va bene così. Ragazzi. Ci vediamo domani. Giocheremo contro l'Occlan City. Che è primo. Davvero. Come è fatto ad essere primo? Quante ne ha perse il... L'Eastern Suburbs. Aspettate. Cacchio è primo. Ha agganciato... Ti voglio dire il Team Wellington. Ha agganciato il Team Wellington. Che è crollato. Non fa più un punto. Solo che adesso noi ci andiamo contro l'Occlan City. Che è in grande forma. Contro una formazione. Io vengo a tutti. Ho perso il debit d'Italia. Vedremo mercoledì cosa ne esce fuori. Va bene ragazzi. Direi che con questo è tutto. Ci vediamo domani. Sempre qua. Su Futo Manager 2018. Sempre qua. La nostra partita con gli Hamilton Wonders. A domani. Ciao ciao. Ciao ciao.